Il Consiglio regionale d'Abruzzo compie 50 anni. Le linee immaginarie che determinano dove inizia e dove finisce una regione furono inserite nell'ordinamento giuridico italiano nel 48 con l'istituzione della Repubblica e l'entrata in vigore della Costituzione. Allora si parlava di Abruzzi perché era stata decisa una maxiregione insieme con il Molise. Nel 63 due territori vengono scorporati e nasce così l'Abruzzo come lo conosciamo oggi, portando a 20 il numero complessivo delle regioni italiane. Ma è solo nel 1970 che la norma costituzionale delle regioni viene attuata. La legge del 16 maggio definisce le entrate tributarie regionali, l'esistenza di un patrimonio regionale e la creazione di un fondo interregionale. Il 7 e l'8 giugno si tennero le prime elezioni regionali e il 6 luglio si riunì per la prima volta nella storia il Consiglio regionale d'Abruzzo. Sono trascorsi 50 anni, ricordo che in quell'occasione non si riuscì però ad eleggere il Presidente del Consiglio regionale che poi venne eletto in una seconda seduta che si tenne il 18 luglio al Forte Spagnolo perché era il momento dei moti sulla scelta del capoluogo regionale tra l'Aquila e Pescara. Questo vi fa pensare quanta storia ci sia in mezzo da raccontare della nostra regione e della nostra nazione perché è un anniversario di 50 anni dell'istituzione delle regioni che riguarda tutta l'Italia. Questa storia la dobbiamo raccontare, non c'è stato possibile farlo ora perché i noti problemi legati all'emergenza Covid, alla impossibilità degli assembramenti e dell'organizzazione delle manifestazioni ma vogliamo farlo, vogliamo farlo avvalendoci del nostro archivio, avvalendoci dell'associazione degli ex consiglieri regionali presieduta dal Dottor Franfani che è qui, vogliamo raccontare nelle scuole cosa sono state le regioni e cosa è stata la regione Abruzzo e vogliamo capire imparando da questi 50 anni di storia come dobbiamo trasformare l'istituzione regionale, come renderla più vicina, più efficiente e più coerente con i tempi che stiamo vivendo. Io traggo della mia esperienza in consiglio regionale è una positiva attività, certo non tutto quello che si poteva fare è stato fatto ma molto di più di quello che si racconta di buono è stato fatto dalle regioni, anche in questa emergenza mi pare che i presidenti di regione che vengono chiamati in maniera un campo superficiale governatori abbiano comunque rappresentato un punto fermo.